buonasera buonasera a tutti grazie intanto per aver trovato del tempo per per venire qui a vedere la presentazione del libro di marco cappelli il miglior nemico di roma io mi presento mi chiamo fabrizio patti sono giornalista della rai attualmente alla testata giornalistica regionale della lombardia e sono davvero felice di essere qua questa sera intanto perché sono a torino e dovevamo un attimo fa una città dove ho lasciato un bel pezzo di cuore è una città davvero dove tante volte si pensa di tornare perché ti fa sentire a casa e poi sono felice perché questo circo dei lettori è davvero un unicum e davvero c'era ne parlavo l'altro giorno con un collega della redazione cultura che è stato qua a torino fino fino a qualche mese fa si chiama antonio sgobba magari lo ricorderete perché è stato il curatore della rubrica pet arca ne parlavamo con una collega di milano dicevamo ma sempre della redazione cultura lui stava descrivendo questo posto e lei chiedeva ma a milano cosa c'è di simile detto no questo è un unicum questo è un posto veramente che per la continuità e per la qualità delle serate che esprime penso che abbia ben pochi paragoni in italia almeno e tra l'altro vorrei anche dire che la cosa bella di questo posto è che poi lascia una traccia per cui io ho avuto modo di frequentarlo ma poi a distanza tramite il podcast tramite i video su youtube si riesce a trovare traccia e parleremo parleremo di podcast penso questa sera e poi sono molto felice perché sono qui con con marco con marco cappelli lo conoscerete tutti un grande una persona che è diventata uno dei maggiori divulgatori di storia in italia e la cosa incredibile come una cosa bella di questi tempi il fatto che si possa trovare traccia di quello che avviene in questo luogo una delle altre cose belle che io trovo è che una persona come marco sia potuto diventare uno dei più grandi e più noti divulgatori di storia in italia in che senso marco fa un altro lavoro se io però ho la fortuna di conoscerlo da da tanti anni oggi facciamo i conti sono quasi 20 anni e vi posso assicurare che girare con lui come abbiamo fatto tante volte in giro per per l'italia e per l'europa è davvero una bella esperienza e lui 20 anni fa era come ci metteva la stessa passione che ci mette che ci mette oggi e quindi io ho avuto la fortuna di di vedere nascere il progetto di strada italia il numero zero che 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 mi ha fatto vedere in anteprima ho visto che c'era questo grande potenziale però la cosa veramente la grande capacità di marco poi è stata quella di far crescere questo progetto di portarlo avanti con grande costanza poi magari avremo modo di parlare di di questo di come di come lui fa ottiene questi questi risultati cosa c'è dietro e l'altro giorno io parlavo con un con una persona abbastanza anziana che aveva lavorato al banco di napoli come capo dei degli ispettori lui mi raccontava di della di come aveva conosciuto questo signore questo ingegnere dell'ibm che si chiamava luciano de crescenzo che lui nella vita appunto era un ingegnere gli sistemava i sistemi informatici però aveva questa passione della filosofia io ogni tanto dico ma speriamo buone sensazioni diciamo comunque oggi noi siamo qua invece però per parlare soprattutto di questo di questo secondo genito di di marco il miglior nemico di roma che va a a prendere un altro aspetto diciamo dopo per un pugno di barbari che si era concentrato sulla sulla crisi del terzo secolo e di come poi invece fu un imperatore di origine lirica a salvare l'impero oggi con con questa seconda uscita si concentra in particolare sulla storia sulla storia dei dei goti vorrei solo aggiungere una cosa prima di di parlare di nello specifico di entrare nel 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 tema nei vari punti di questo libro e che è solo l'ultima nota personale cos'è che ogni tanto ci penso che cosa mi fa sentire molto simile a a marco il fatto che un po come come lui abbiamo un percorso che è andato in parallelo prima degli studi classici e poi degli studi di economia e questo perché ve lo cito perché io vedo una grande sintonia in questa capacità che lui ci mette nel porsi questi questo tema il fatto che quando tu hai un approccio economico alla storia ti devi porre una serie di domande su non solo quello che succede ma come una cosa successa come è stato possibile far funzionare un una certa macchina una certa istituzione tutto questo noi lo lo vedremo oggi penso nella serata perché una delle cose che a me piace molto sottolineare di marco e che è una è una sì un approccio divulgativo ma che non rinuncia mai a un livello di complessità che rimane complessità che non viene mai fatta pesare sul sul lettore ma viene fatta digerire diciamo mettendo strato su strato e portando il lettore da un livello diciamo di base a un a un livello invece di conoscenza molto molto approfondita pur non rinunciando mai a uno stile molto divulgativo va bene abbiamo fatto una certa introduzione adesso io vorrei parlare però molto meno vorrei far parlare marco e vorrei intanto partire da da l'oggetto di questo libro cioè i goti e allora intanto nel giornalismo si direbbe le cinque v chi cosa dove quando perché allora già sul chi c'è molto da dire allora chi sono i goti sì questa è è una domanda che diciamo quasi tutta l'intera parte della prima parte del libro è dedicata a rispondere a questa domanda non completamente ma è la parte principale e perché sembrerebbe una domanda abbastanza semplice no chi sono i goti sono degli uomini alti biondi germani no parla una lingua germanica sicuramente eppure nessuno di queste cose che ho appena detto è certa e anzi siamo abbastanza certi che non è così quindi e la cosa interessante è stata anche tracciare la storia dell'interpretazione dell'identità dei goti perché se noi andiamo prima della seconda guerra mondiale dall'ottocento fino alla seconda guerra mondiale tutta questa vicenda è letta con le lenti del nazionalismo sia di quello tedesco che di quello italiano quindi la lente del nazionalismo qual è nell'ottocento si creano le nazioni le nazioni nascono nella maggior parte delle nazioni nascono nell'ottocento e per creare la nazione occorre un mito fondativo e dove si va a prendere il mito fondativo se sei degli italiani si va a cercare la storia romana e altri miti fondativi se sei tedesco devi andare a cercarla nei germani quindi si va a cercare una storia nazionale tedesca anche nella vicenda dei goti e in questo è tutto interpretato con la lente del nazionalismo invece andando dopo la seconda guerra mondiale c'è la reazione al nazionalismo quindi tutto diventa viene messo in dubbio secondo me addirittura il pendolo va un po' oltre in un certo senso i goti non sono neanche germani non vengono dalla scandinavia come ci racconta giordane sono solo delle culture archeologiche non c'è niente al di là di questo cos'è una cultura archeologica è in sostanza uno stile di produzione di materiale archeologico che un tempo quando lo si trovava si diceva ho trovato i goti oggi non si fa così perché sappiamo che solo perché abbiamo trovato una cultura archeologica non vuol dire che abbiamo trovato un popolo potrebbero essere più popoli potrebbe essere solo una moda condivisa da un territorio non abbiamo idea in realtà perché ci sono dei vasi con quello stile quello sono i goti comunque quindi la la cosa interessante quindi la prima parte del libro è stata una sorta di giallo andare alla ricerca dei goti e mettendo assieme sia le fonti che ovviamente si conoscono da una vita ma anche diciamo quello che è stata la ricerca più recente sia archeologica sia anche l'ultimissima archeogenetica che cos'è l'archeogenetica ecco l'archeogenetica è una scienza o studio dell'ina antico che esiste da solo una decina d'anni in sostanza perché prima non si poteva estrarre il dna da ossa antiche quindi una però tecnicamente è diventato possibile solo da poco più di dieci anni e i primissimi studi in epoca storica quindi non in preistoria sono di appena cinque sei anni fa quindi stiamo parlando veramente dell'ultimissimi dati disponibili e la cosa interessante è stato anche prendere questi ultimissimi dati e inserirli nel nel discorso del del diciamo del della caccia dei goti ora non perché noi troviamo dei risultati archeogenetici semplifico sono stati trovati dei risultati che dicono che almeno una parte di chi viveva in polonia settentrionale che è la prima cultura archeologica diciamo associata ai goti tendenzialmente probabilmente associata ai goti in quelle ossa è stata trovata la prova che una parte della popolazione almeno aveva origine scandinavia quindi scusa se ti interroppo poi andiamo avanti tu stai dicendo che dopo la seconda guerra mondiale eravamo diventati fin troppo scettici nei confronti delle delle fonti invece l'archeogenetica ci dice che le fonti stiamo tornando indietro però non indietro al periodo diciamo del nazionalismo perché nella comunque si tratta di una percentuale della popolazione al massimo e comunque il fatto che siano geneticamente simili non vuol dire che siano culturalmente simili è solo un dato in più secondo me da solo non direbbe niente cioè questo dato archeogenetico da solo non direbbe niente ma unito a la diciamo la traccia storica delle fonti che comunque qualcosa vuol dire è unito all'archeologia perché ci sono alcune prove che ci dicono che alcuni degli degli elementi tipo come si fanno i tumuli altri altri elementi diciamo archeologici trovati in polonia sono simili ad elementi contemporanei o appena successivi in scandinavia quindi c'è una serie di prove che assieme secondo me ormai fanno un quadro abbastanza chiaro poi tutto può essere messo in dubbio domani però oggi mi sento di dire che è abbastanza chiaro questo però non vuol dire questo scusa è dico quest'ultima cosa che siamo appunto tornati al periodo pre pre bellico perché siamo certi anche dai risultati archeogenetici che i goti sono un misto comunque sia di una componente probabilmente arrivata dalla scandinavia sia di componenti locali che sistemano su quel territorio già da prima c'è una cultura precedente a quella di wilberg che è la cultura archeologica della polonia settentrionale legata ai goti scusate i termini tecnici ma per essere chiaro che ha degli elementi di similitudine con quella di wilberg questo ci dice che la popolazione probabilmente preesistente è comunque importante anche per questa protociviltà gotica adesso poi poi li seguiamo i goti volevo solo fare come notazione che questo studio dell'archeogenetica è talmente importante che il coraggio mi se sbaglio ma il suo pioniere che è svante pavo quest'anno ha vinto il nobe per la medicina proprio per lo studio del sequenziamento del genoma del neanderthal si per me è una cosa veramente eccitante perché siamo solo all'inizio cioè siamo ai primissimi passi in un nuovo mondo svante pavo ha detto che siamo alla terza rivoluzione dell'archeologia la la prima sono state le scienze umane nell'ottocento la seconda il carbonio lo studio del carbonio 14 questa è la terza rivoluzione scientifica applicata all'archeologia la maggior parte dei dati che sono diciamo estraibili non sono stati ancora estratti e lo saranno ne sono certo nei prossimi anni io ho intervistato un ricercatore del max planchi institute l'ultimissima puntata diciamo del podcast che sta studiando adesso per fare uno studio che non è stato mai tentato prima cioè di prendere un campione molto ampio di una singola popolazione per andare a studiare veramente nel dettaglio la composizione di quella popolazione ma anche nei legami familiari perché ovviamente si può capire anche i legami familiari si può capire per esempio le le tombe un po più povere sono legate a chi quelle più ricche a chi si possono fare degli studi veramente in profondità e questo non sono stati ancora fatti perché fino ad oggi era una tecnica molto complessa difficile costosa si potevano fare solo alcuni campioni la tecnologia sta andando avanti quindi sono sicuro che nei prossimi dieci anni avremo molte più molti più dati a disposizione la cosa eccitante per chi segue anche un po la scienza fisica e l'astrofisica che la cosa mi ricorda molto il tema appunto il campo astrofisico di quello che si chiama astronomia multimessaggero forse avete sentito prima si facevano le osservazioni con lo spettro visibile poi sono cominciati si è cominciato a usare i radiotelescopi adesso è lo studio dei messaggi che arrivano attraverso le onde gravitazionali la cosa che in cui trovo una similitudine è che magari sono delle informazioni marginali rispetto a quelle che prima conoscevamo che però permettono di risolvere dei dubbi e delle delle cose che andavano avanti diciamo delle contese che andavano avanti da settimane però aspetta io volevo un attimo riportarti ai nostri goti ce l'abbiamo visti quindi partire dalla dalla scandinavia siamo andati in polonia ecco ci dai proprio un quadro proprio anche un po come si sono poi andati a evolvere e a dividersi allora io nel libro ho fatto un paragone forse azzardato ma spero che serva a un po a spiegare questo come probabilmente questo meccanismo si è messo in moto ed è quello dei russi chi conosce i russi sono bene qualche mano alzati i russi sono ovviamente oggi sappiamo una popolazione di origine norrena che conquistò la la moderna russia e ucraina nel diciamo nella tarda antichità e poi nell'alto medioevo costruendo poi nell'alto medioevo la russia di chiev il russo ovviamente era una piccola minoranza dello stato che sarà la russia di chiev sono l'elite ma una piccola minoranza credo che qualcosa probabilmente e ripeto gli studi futuri probabilmente questo lo lo metteranno molto più in chiaro ma probabilmente una piccola minoranza scandinava che arriva nella polonia settentrionale e comincia a creare un un gruppo che all'inizio è citato da tacito per essere un piccolo gruppo sottomesso ai vandali anche ma se noi lo seguiamo questo dal intorno al primo secolo dopo cristo stiamo parlando ai tempi di per intenderci di claudio quando cominciamo a tracciarlo e quindi se seguiamo la storia romana è facile e ce la ricordiamo è facile seguire quella gotica al secondo secolo dopo cristo questo gruppo è diventato più grande vediamo espandersi almeno come cultura archeologica potrebbe essere solo imitazione ma è probabile che sia un'espansione vera e propria verso la polonia centrale fino ad arrivare seguendo un corso di un grande fiume che la vistola la vistola arriva poi nei intorni dei carpazzi vicino ai romani e qui siamo arrivati quando arrivano ai monti carpazzi goti con la loro espansione siamo più o meno alla crisi del terzo secolo di cui ho parlato impero un pugno di barbari una delle tesi idee di uno storico famoso peter heater è che sostanzialmente è possibile che questa espansione dei goti abbia causato le guerre marcomanniche del secondo secolo dopo cristo perché marcomanni si sarebbero marcomanni e quadi si sarebbero sentiti minacciati da nord e avrebbero cercato quindi di espandersi verso l'impero romano non è certa questa cosa potrebbe anche essere valido il contrario cioè le guerre marcomanni che marca aurelio ha distrutto la coalizione dei marcomanni e dei quadi dando la possibilità ai goti di espandersi quindi non è chiaro l'ordine ahimè la storia dei germani è fatta di tanti dubbi perché abbiamo meno fonti adesso noi arriviamo al rapporto dei goti con i romani che ci interessa tanto prima proprio con l'accetta solo come erano divisi questi goti che noi anche sappiamo che non era un gruppo unico sì e questa è una cosa interessante perché la divisione classica avviene dopo la crisi del terzo secolo e avviene in quella che noi in quella che è oggi l'ucraina perché il passaggio che non ho già non ho detto e che poi a un certo punto abbiamo una nuova cultura archeologica in ucraina in romania che si chiama la cultura di cerniakov che è associata assolutamente ai goti ed è simile a molti elementi in comune con quella di wilbark che era in polonia quindi di nuovo facendo il piccolo detective del della storia germanica si arriva a pensare che ci sia una un passaggio tra queste due in ucraina c'è una divisione a un certo punto perché i romani ai tempi della crisi del terzo secolo alla fine dopo averne prese tante dai goti alla fine assestano un colpo terribile ai goti ai tempi di aureliano e li sconfiggono in un modo così totale che il è probabile che avessero nel terzo secolo un regno unificato ma sappiamo che nel quarto non sono più uniti è successo qualcosa come si chiamano si chiamano tervingi e greutungi nelle fonti e il il confine è più o meno il di niestr quindi o di niestr che è il fiume che scorre nella moldavia per intenderci oggi c'è la transnistria che dall'altro lato del niestr e quindi siamo proprio in quella in quell'area lì quindi a est del niestr ci sono i greutungi che vuol dire che i greutungi sono i goti del sollevante quindi sono i giapponesi dei dei goti insomma e poi ci sono i tervingi o vesi vesi vuol dire nobili tervingi probabilmente a che fare con la sabbia e i goti della sabbia e che invece vivono in quella che oggi è la romania e la moldavia per intenderci quasi completamente quell'area la cosa interessante è la differenza tra i due i tervingi nel quarto secolo sono integrati già nel sistema politico romano questa è una cosa che poco nota diciamo è che noi siamo abituati a pensare a beh i goti saranno influenzati dai romani dopo l'ingresso nell'impero romano ma in realtà già nel quarto secolo sono sono stati sconfitti da costantino e inseriti nel sistema politico economico dell'impero tant'è vero che i tervingi noi abbiamo proprio delle prove anche archeologiche di una forte influenza romana sui tervingi a un certo punto venivano pagati dai domani come mai venivano pagati in un certo senso sai spesso gli storici anche antichi ma anche moderni pensano a chi paga è nella posizione di debolezza in realtà se voi avete mai avuto un debito con qualcuno sapete che chi diciamo a chi dovete dei soldi o che vi ha pagato di solito ha un certo potere su di voi no insomma e il in questo caso vengono pagati con delle sovvenzioni per essere influenzati da roma e in cambio anche di servigi militari e in più i romani volutamente costringono i tervingi ad aprire completamente il mercato interno fanno un trattato di libero scambio si direbbe in termini moderni con l'impero romano in modo da esportare il più possibile i tervingi anche influenzarli probabilmente culturalmente ma soprattutto legarli sono così probabilmente quello che è successo che l'esportazione era così impegnativa era così forte che i tervingi non avevano autonomia alimentare quindi in caso di guerra con roma si sarebbero trovati in una posizione in cui avrebbero fatto la fame cosa che succede infatti quando ci saranno delle guerre contro roma i tervingi faranno la fame perché dipendevano dall'impero anche per per sfamarsi stiamo parlando di agricoltori di nomadi ecco questo è un è una confusione comune spesso si pensa ai ai gotti come nomadi perché li vediamo spostarsi ma li vediamo spostarsi nei secoli sono spostamenti di agricoltori i gotti sono agricoltori non sono nomadi ora una parte dei garotungi hanno anche come in tutte le popolazioni ci sono anche quelli dedite alla pastorizia che è un'altra cosa da nomadi però la stragrande maggioranza dei goti sono agricoltori e nel quarto secolo vediamo proprio lo sviluppo di una protociviltà gotica come succede su tutte le frontiere romane non è un caso solo dei goti poi ci anche poi sarà il caso anche degli arabi o il caso dei franchi degli alemanni però i goti tervingi è un caso particolarmente intenso sì ciao ciao lorenzo è un caso di costruzione di una struttura che è particolarmente intenso perché abbiamo proprio una struttura politica dove c'è un giudice in sostanza immaginatevolo come un console del dei tervingi che tra l'altro manda i l'erede a studiare a costantinopoli ovviamente no quindi il massimo del dell'acculturazione diciamo romana e e quindi abbiamo e abbiamo anche disegni di altro tipo di influenza cioè è stata trovata una villa che assomiglia alle ville romane nel territorio dei goti tervingi si è trovata la produzione di vetro in in quantità diciamo per capirsi del per l'antichità in quantità industriali tant'è vero che veniva esportato in tutto il barbaricum cioè i barbari che non potevano permettersi il vetro romano compravano il vetro gotico che era considerato il migliore dopo quello romano insomma quindi stiamo parlando comunque per arrivare a produrre il vetro non è una produzione complessa insomma non è una produzione facile anche vetro di buona qualità quindi insomma abbiamo dei germani che sono agricoltori che hanno una struttura con appunto dei dei giudici tra l'altro mi stupisce che il giudice anche è un termine che disegna i capi anche nel mondo ebraico per un certo periodo esatto e mi ha colpito questo questo passaggio e a proposito di che religione che religione avevano loro ecco noi sappiamo pochissimo della religione politeistica gotica si assume i soliti dei germanici quindi la loro versione di torro di ino eccetera ma in realtà non lo sappiamo perché si convertono così presto al cristianesimo sono i primi germani che con certezza si convertono al cristianesimo ovviamente è un processo non è da un giorno all'altro tra l'altro i goti sono così romanizzati prima di entrare nell'impero romano che sono gli unici a concepire una persecuzione anticristiana che è un concetto romanissimo cioè di avere un'autorità statale con il potere di imporre agli appartenenti una scelta religiosa occorre un potere statale molto forte e un'ideologia statale che infatti tutti gli altri germani non hanno non ci pensano nemmeno a perseguitare i cristiani nella fase diciamo in cui i cristiani sono già una considerevole minoranza ma non ancora la maggioranza i cristiani vengono perseguitati da uno dei giudici e tra l'altro la cosa bella è come vengono perseguitati perché uno si si aspetta una concezione diciamo magari abbiamo in mente non so la sacra inquisizione lì era qualcosa di diverso no beh lì ovviamente stiamo sempre parlando di strutture diciamo comunque sviluppate ma ancora tribali quindi si affida ai sostanzialmente ai ai giudici locali di implementare e questi a loro volta si affidano al consiglio del villaggio e questo noi lo sappiamo grazie a una perla veramente una perla che viene dalla letteraria che è questo martirio di san saba san saba il goto quindi è il primo santo goto che viene martirizzato durante questa persecuzione e chi l'ha scritta non sappiamo l'identità di chi ha scritto questo martirologio ma è molto probabilmente un goto che viveva nell'impero romano no ma quello che dicevo volevo dire lo spesso male è che non era richiesta una vera adesione interiore spirituale ah sì sì certo cosa bastava? ma questo vale anche per i romani cioè sia per i romani che per i goti che imitano i romani la questione non è la propria convinzione personale o quello che tu decidi di adorare in casa il concetto è diciamo adeguarsi al culto pubblico siccome c'è un'autorità statale questa autorità statale ha come un trattato con le potenze superiori con le divinità questo trattato va mantenuto da tutti perché è un trattato di tutta la comunità con le divinità se qualcuno di noi si tira indietro da questo trattato lo sta rompendo il trattato con le divinità poi a casa tua fai quello che ti pare ma puoi anche farti una chiesa non è assolutamente un problema e non era neanche un problema per Diocleziano in realtà quindi in questo la persecuzione gotica di fine quarto secolo mi ricorda proprio in modo è veramente identica a quella della persecuzione romana di inizio quarto secolo adesso arriviamo alle battaglie solo serve però ancora un passaggio perché c'è Ulfila il piccolo lupo forse ne facciamo un accenno solo perché non solo la sua statura ma anche la sua posizione religiosa cioè l'ariadesimo sarà molto importante anche per il destino dei goti facciamo un accenno veloce che il tempo corre sì certo allora Ulfila è stato il personaggio mi hanno chiesto già qual è il personaggio che ti ha divertito di più descrivere ed è sicuramente Ulfila Ulfila è un personaggio chiave non solo della storia gotica ma anche di quella romana è il primo intellettuale goto che ha un'importanza intellettuale importante in tutto il mondo romano non c'è nessuno nell'impero romano diciamo che si occupasse di teologia o intellettuale importante che non conoscesse Ulfila perché era una persona importante chi è Ulfila? Ulfila è un discendente di prigionieri romani catturati nel corso della crisi del terzo secolo portati in Guttudia nella terra dei goti ma lui è un discendente si considera un goto e viene insomma è già cristiano perché la sua famiglia era cristiana e viene incaricato dall'impero romano in sostanza dal vescovo di Costantinopoli dall'imperatore di convertire e aiutare la conversione dei goti per farlo crea un nuovo alfabeto il primo alfabeto diciamo in cui viene tradotta la Bibbia al di là del diciamo la prima lingua in cui viene tradotta la Bibbia al di là del latino e del greco quindi è da questo punto di vista è veramente impressionante l'alfabeto che sembra un po' latino e un po' greco c'è anche qualcosa di... è molto ispirato al greco ovviamente perché era quella la lingua dell'oriente ma c'è anche un po' di latino dentro e quindi traduce la Bibbia e in più la cosa interessante che Ariano sì ma era Ariano all'epoca il vescovo di Costantinopoli e l'imperatore anche quindi lui in realtà ha tenuto la stessa posizione per tutta la vita è l'impero romano che si è spostato nel frattempo che l'impero romano dopo Adrianopoli almeno l'impero d'oriente che era abbastanza Ariano proprio una parola per dire cos'è l'arianesimo ah beh giusto proprio in un nutshell in sostanza è un cristianesimo più monoteistico dico perché se tu chiedessi agli arabi diciamo perché cosa c'è qual è il problema del cristianesimo dice avete diviso diciamo monoteismo uno solo in tre e è più monoteistico perché il padre ha più importanza e di una sostanza superiore rispetto al figlio e allo spirito santo quindi questo è più monoteistico questo no il problema lo citiamo solo perché poi questa cosa creerà qualche problema ma ci arriviamo allora nel frattempo abbiamo visto ci sono ci sono rapporti conflittuali però a un certo punto succede qualcosa di molto più grande arrivano gli spingitori gli spingitori di cavalieri gli spingitori di cavalieri e di goti in particolare che sono dei cavalieri e degli orcieri formidabili questa però è una citazione per chi non ha visto l'ottavo nano incomprensibile sì diciamo che questo questo rapporto tra goti e romani che si stava sviluppando in parallelo probabilmente non sarebbe mai arrivato alla tragedia che poi saranno i decenni i secoli successivi se non fossero intervenuti se non fossero intervenuti il rullo compressore della tarda antichità i borg che sono appunto gli unni gli unni distruggono militarmente sia i greutungi sia i tervingi nel giro di pochissimi anni forse anche di un solo anno loro non potevano convivere con loro perché loro erano nomadi e questo è il motivo e questa è la questione i nomadi hanno bisogno di terre per i pascoli e non vogliono agricoltori tra le scatole quindi al massimo se hanno degli agricoltori li sottomettono in modo che cedano il loro surplus agricolo a loro per il loro sostentamento quindi di fronte a tutti i goti c'è una scelta da prendere nel 376 c'è il martello degli unni e l'incudine dell'impero romano alcuni sceglieranno il martello alcuni sceglieranno l'incudine e lì è la differenza tra visigoti ed ostrogoti spesso si dice i greutungi sono gli ostrogoti i tervingi sono i visigoti ma non è corretto perché in realtà i visigoti sono una parte sono tervingi e una parte sono greutungi e gli ostrogoti una parte sono tervingi e una parte sono greutungi quindi in realtà si rimescolano dà l'idea di questo cataclisma che distrugge qualunque cosa preesistente grazie a diciamo al loro arco com'era questo arco formidabile che avevano? è un arco la particolarità dell'arco è che uno è che è un arco a doppia curva come tanti ma la particolarità è che è asimmetrico quindi è più lungo sul lato alto e più basso sul lato corto in modo da poter essere utilizzato a cavallo spostandolo così e non impigliandosi nel cavallo ma permettendo di avere la gittata di un arco molto più grande questo è solo una delle particolarità la particolarità però di quest'arco è che siccome è asimmetrico richiede una correzione non puoi mirare come un normale arco devi correggere la mira sapendo che la freccia non andrà nella direzione a cui stai puntando e devi fare questo a cavallo mentre corri magari anche andando al lato opposto quindi richiede sostanzialmente una vita a cavallo per saperlo usare la particolarità non è tanto l'arco è il fatto l'unione tra l'arco e una vita a cavallo è l'unico modo per poterlo utilizzare a questo punto la tua innovazione si concentra sui visigoti quindi i visigoti chiedono di entrare nell'impero ecco un po' come funzionava e come funzionò invece in quella fatidica data che poi portò e anticipiamo il punto alla battaglia di Adranopoli sì e questo diciamo è il punto cruciale diciamo che quello che è successo ai goti è successo decine di volte a decine di popoli del barbaricum è una cosa classica una contesa di potere nel barbaricum causa che un popolo perde e un altro vince il popolo che perde tipicamente chiede asilo all'impero romano a volte prova di invadere poi chiede l'asilo più delle volte chiede l'asilo quindi questo era già successo per tre secoli più e più volte e ogni volta era andata abbastanza bene con qualche rara eccezione quello che accadeva è che il popolo veniva accolto i romani lo spargevano in tutto l'impero lo disarmavano prima e poi arruolavano una buona parte del di questo popolo nelle diciamo nelle legioni come ausiliari prima poi direttamente come legionari ma di nuovo sotto capi romani e dividendolo quindi mandando alcuni di qua alcuni di là in modo da spezzare l'unità della tribù in sostanza e infatti decine di noi sappiamo di sarmati taifali che vengono insediati qui in nord Italia e hanno ci sono anche a volte ci sono anche delle tracce toponomastiche della loro del fatto che sono stati insediati in Italia però sono scomparsi nel giro di poche generazioni sono diventati romani quindi questo è quello che normalmente accadeva il caso dei goti è un caso un po' particolare perché invece di essere un piccolo gruppo sconfitto perché appunto debole i goti erano forti ed erano tanti erano stati sconfitti perché era arrivato un rullo compressore ancora più grande quindi in questo caso abbiamo un gruppo molto più numeroso e in più Valente che è l'imperatore d'Oriente ha bisogno di truppe perché vuole fare guerra ai persiani che sono sempre la fissazione numero uno dei romani diciamo ancora adesso sono al settimo secolo lo sono ancora adesso quindi del podcast quindi quindi il c'era un'esigenza da parte dell'impero di avere nuove truppe e c'era un'esigenza dei goti ovviamente di trovare scampo quindi c'era interesse di entrambi e però ci si mette di mezzo anche la corruzione ci si mette di mezzo anche la corruzione è una storia nota come sempre quando ci sono tanti profughi che portano dietro anche tante ricchezze immaginate questo non è un popolo povero è arrivato sul Danubio con tante ricchezze e qualcuno ne vuole approfittare chiede magari una bustarella in più per far passare con le armi e non disarmare chiede una bustarella in più per dare un po' più da mangiare invece delle razioni predefinite poi a un certo punto dice ma questa cosa delle bustarelle è interessante facciamo che noi gli diamo da mangiare per niente ci devono come ci aveva ordinato l'imperatore gli dargli da mangiare gratis e invece gli chiediamo di pagarci per qualunque cosa che di cui hanno bisogno i goti siano portati dietro un po' di rifornimenti ma finiscono presto e diventano affamati arrabbiati e cominciano anche ci sono i casi ci narrano gli autori romani sono da questo punto di vista molto è molto interessante perché tutti gli autori romani che ne parlano danno la colpa di quello che accade ai romani e non ai goti e lo trovo molto interessante perché né Ammiano Marcellino né Unapio le due fonti principali ma anche Olimpio d'Oro sono particolarmente a favore dei goti anzi dicono di solito peste e corna dopo però in questo punto cruciale danno la colpa alla corruzione degli ufficiali romani la situazione arriva a un punto in cui i goti si ribellano perché non si sentono maltrattati dall'impero addirittura vendono i bambini vendono i bambini sono alla fame vengono portati a Marcianopoli che è la capitale di quel distretto militare in una marcia le solite marce le abbiamo viste le marce di profughi affamati che attraversano dei territori dove non hanno molto da mangiare non è un bel viaggio quindi cercate di mettervi nei panni di chi subisce questa cosa si gira pure la voce a un certo punto che i romani hanno invitato a cena i capi dei goti e li hanno messi tutti a morto e questa è l'ultima goccia diciamo che fa traboccare il vaso e quindi abbiamo una rivolta ora neanche la rivolta di per sé è un diciamo una condanna al al disastro ma la rivolta uno non viene sedata rapidamente due i romani vengono sconfitti in una prima battaglia e quindi comincia tutto un periodo di molto complesso che di scrivo nel libro in cui di caccia di gatto con il topo che dura un paio di anni quindi le posizioni in un certo senso si induriscono da entrambi le parti eppure quando si arriva alla battaglia di Adrianopoli entrambi sempre non particolarmente allineati fanno tentativi di trovare una soluzione diplomatica questo mi dà il senso spesso del fatto che spesso dipende veramente da piccoli casi della storia che cadono da una parte o dall'altra perché ci sono state più occasioni in cui sarebbe potuto trovare un accordo insomma a questo evento senza finire in una battaglia ecco una battaglia disastrosa come dipende dipende dal punto di vista cioè se uno dice disastroso sei già un embedded journalist sei già dalla parte dei romani dal punto di vista dei goti è una battaglia favolosa non riusciranno mai più a sconfiggere i romani i goti in realtà non hanno mai più vinto una vera battaglia campale con i romani quindi è stato un caso unico in cui Valente che fine fa? Valente ovviamente l'imperatore muore ma queste sono cose note l'imperatore Valente muore l'intero comitatus quasi l'intero comitatus orientale viene distrutto ma il punto non è tanto le conseguenze militari di questa battaglia io quello che sono andato a cercare poi nel libro è cosa causa questo nel nell'atteggiamento di goti e romani l'uno verso l'altro allora un primo fattore che è spesso ignorato è la conseguenza religiosa cioè è morto Valente che è l'imperatore Ariano e per la mentalità romana la morte in battaglia vuol dire sfavore divino quindi evidentemente la sua versione del cristianesimo è sbagliata quindi la versione giusta è l'altra cioè quello che oggi noi chiameremo il cattolicesimo insomma l'ortodossia nicena tre parti uguali della trinità quindi questa è la prima conseguenza ma le altre due secondo me sono conseguenze di punto come i goti e i romani si vedono l'un l'altro cioè da una parte i romani che non sono mai stati xenofobi particolarmente xenofobi con nessuna popolazione proveniente dal barbaricum all'improvviso ed è proprio si vede nelle fonti perché prima non c'è questa cosa ma subito dopo Adrianopoli per alcuni decenni i romani sono c'è un sentimento xenofobo contro i goti perché i goti hanno infranto il sogno di invincibilità di Roma e in un certo senso i romani prima di Adrianopoli non si ponevano neanche la questione del rapporto con i barbari ma i barbari sono così al di sotto culturalmente di noi che sono destinati un giorno o a essere conquistati o assorbiti dall'impero cioè era era una cosa un dato dato per scontato all'improvviso i romani si rendono conto che magari scontato non è e questo crea una crisi di rigetto e non si mescoleranno mai quindi diventano un po' come l'olio e l'acqua per un po' il problema è che per arrivare a una sintesi occorre rimuovere gli elementi di diciamo di conflitto deve passare abbastanza tempo ad adrianopoli per non essere più un problema e bisogna rimuovere la barriera religiosa senza rimuovere la barriera religiosa è molto difficile le identità si possono cambiare abbastanza facilmente quelle etniche quelle religiose sono più difficili quindi quando si combina etnia e religione diciamo l'assorbimento diventa difficile seguiamoli proprio per sommi capi dopo dopo adrianopoli insomma ci sono ancora un paio di punti che vengono poi ricordati diciamo il sacco di Roma da una parte e poi fino a a loro arrivare prima prima in Francia e poi in Spagna diciamo per sommi capi che cosa diventano dopo i i visigoti si e questo è un altro un altro fattore io una cosa che ho cercato di ricostruire nel libro è la politica dei goti perché di nuovo noi magari abbiamo il punto di vista dei romani uno delle embedded journalists è di considerare i goti come un'entità monolitica mentre è evidente prima e dopo adrianopoli che il modo migliore per sconfiggere un goto è mandargli contro un altro goto di solito molto più accanito contro l'altro goto di qualunque romano quindi questo è un sintomo di una divisione politica dei goti che è ricostruibile in parte perché noi abbiamo varie figure abbiamo figure che sono quello che noi chiameremmo populisti oggi abbiamo anche figure che sono moderate e altre figure che sono assolutamente determinate a una completa integrazione nella struttura dell'impero romano quindi abbiamo varie uno spettro di posizioni e non è a lungo non è chiaro quale di questa trionferà e in un certo senso i romani ci si mettono per far trionfare quella più populistica gotica in un certo senso perché con un paio di massacri di goti uno a Costantinopoli una vicenda poco conosciuta nell'anno 400 che descrivo nel dettaglio nel libro perché io ritengo molto importante un passaggio chiave e un altro più famoso diciamo dopo la caduta di stilicone nel 408 cioè nel giro di otto anni ci sono le fazioni pro romane tra i goti vengono massacrate dai romani questo indurisce quindi la posizione di quelli che sopravvivono ma soprattutto porta una parte dell'opinione pubblica gotica a passare dalla parte del populista che in questo caso sarebbe Larico che assolutamente non era il leader incontestato dei goti fino almeno a 408 quindi lui si ribella la prima volta nel 395 quindi 13 anni prima per 13 anni non è il leader incontestato dei misi goti lo diventa grazie a Romano quindi questo è anche un passaggio importante da capire per capire i meccanismi della politica anche interna dei goti una cosa su cui ti vorrei portare è che cosa ci hanno lasciato i visi goti però ancora prima è che cosa come hanno plasmato il passaggio tra la fine del mondo del mondo classico al mondo invece alto medievale ecco questa bellissima domanda innanzitutto partiamo da un presupposto la civiltà noi diciamo spesso noi siamo eredi della civiltà classica e in parte è vero però se date un'occhiata ad una mappa vi rendete conto che c'è una differenza clamorosa tra la nostra civiltà occidentale e quella dell'antichità classica qual è la differenza geografica ovvia è che la civiltà classica è centrata sul mediterraneo che è il sistema nervoso e sanguigno della civiltà classica e la nostra no il mediterraneo è la frontiera quindi questa è la prima differenza io direi che il contributo dei goti principale è nel concetto della militarizzazione del sistema politico perché nella società gotica c'era un'identità assoluta tra l'uomo libero quindi colui che in quanto uomo libero partecipa alla politica della confederazione quindi se per essere quello che vota per dirla in termini moderni è un uomo libero ma l'uomo libero è anche un soldato non può esistere nella società gotica il concetto dell'uomo libero civile che è invece il caso del mondo romano almeno durante l'impero perché a me ricorda molto la repubblica romana prima di mario se voi pensate alla repubblica di mario prima di mario quindi nel terzo nel secondo secolo avanti cristo per intenderci è una struttura che è veramente simile a quella dei goti dove hai l'uomo libero è tenuto a fare il soldato a sue spese no la stessa cosa nel per i goti e in un certo senso è una fase di civiltà secondo me che dove passano più o meno tutte le civiltà quasi tutte però la particolarità di avere quindi un esercito che non è pagato ma all'obbligo militare vuol dire che e questo è il passaggio chiave non occorre pagare i soldati ora noi sappiamo che nell'impero romano la stragrande maggioranza della spesa pubblica è andava l'esercito le stime vanno dalla metà a due terzi quindi quando noi pensiamo alla spesa pubblica è come pensare praticamente l'esercito no? come si se l'esercito non lo devi pagare più perché in realtà l'esercito deve il servizio militare allo stato ha che senso ha raccogliere le tasse perché raccogliere le tasse era complicato devi andare a bussare a tutte le porte decidere quanto ognuno deve pagare perché altrimenti tutti si arrabbiano se tu dici pagate tutti uguali quella è la tassa più ingiusta il testatico e tutti si arrabbiano perché dico no ma scusa io sono più povero quello è più ricco allora dobbiamo decidere chi è più povero e chi è più ricco dobbiamo mandare qualcuno che deve andare a misurare quanta è la tua ricchezza quanta è la tua e ci vuole tutta un'amministrazione molto complicata e non ha più senso mantenere questa amministrazione in un sistema come quello gotico che è militarizzato e tu come li paghi questi soldati in questo in questo mondo militarizzato il metodo di pagamento che poi i goti in un certo senso impongono a Roma è l'assegnazione di terre e sentasse se io assegno mettiamo che lei è un un uomo libero un esercitale no le assegno tot iugera di terra in modo da potersi sostenere sostentare insomma non deve pagare le tasse perché però in cambio deve il servizio militare e deve esercitarsi ovviamente all'arte della guerra perché non è che possiamo improvvisarci soldati no insomma quindi il e qui vedete in nuce la società medievale cominciate a vedere come si passa a una classe d'elite che fa della guerra il suo mestiere come a Sparta per intenderci no fa della guerra il suo mestiere e quindi ha delle terre per sostentarsi non solo delle terre spesso anche dei schiavi e dei e dei diciamo dei semi liberi che affittano le terre dei liberi no e che danno una parte del raccolto all'uomo libero e grazie a questo questa parte di raccolto l'uomo libero si può concentrare magari comunque è anche un po' agricoltore ma può concentrare a del reddito disponibile per un esercitarsi alla guerra due acquistare le armi quindi abbiamo visto in nuce qualche seme di quello che sarà poi il feudalesimo allora abbiamo visto i nostri goti nella loro culla scandinava e poi nelle loro evoluzioni ecco poi dove li lasciamo che fine fanno chi li soppianta vabbè prima di soppiantare però Fabrizio fammi dire diciamo come arrivano dove nel posto dove poi verranno soppiantati cioè il punto è che dopo il sacco di Roma è la più grande sconfitta dei goti perché tutta la questione dei goti e romani era una negoziazione quando tu arrivi in una negoziazione a sfasciare il tavolo negoziale non è un grande risultato anche perché gli anni successivi sono dimostrano che il negoziato era indispensabile i goti rischiavano di morire di fame rischiano di morire di fame più e più volte dopo il sacco di Roma perché dipendono sempre dai romani per sfamarsi quindi alla fine si raggiunge un accordo non dico i dettagli perché poi stiamo qui un altro paio di ore ma il punto chiave è che vengono insediati dai romani in Aquitania nella Francia sud-occidentale e appunto da quello che possiamo capire gli vengono assegnate delle terre per quello che dicevo prima quel meccanismo diceva prima vengono assegnate delle terre in cambio del loro servizio militare i goti restano piuttosto fedeli a Roma fino alla fine in sostanza possiamo capire che loro si ribellano davvero all'impero romano e dichiarano la loro sostanziale indipendenza nel 475 che come abbiamo tutti studiato è un anno prima della caduta quindi diciamo rimangono a lungo fedeli a Roma anche quando Roma è agli sgoccio però poi cominciano a costruire uno stato romano germanico a cavallo dei pirenei vengono cacciati adesso semplifico molto la storia vengono cacciati dai franchi dalla loro casa che era in sostanza valle finiscono in iberia in iberia costituiscono in un certo senso il regno romano germanico più più latino e anche più strutturato perché innanzitutto ha una cultura assolutamente latina poi ci sarà la conversione al cattolicesimo alla fine del sesto secolo le leggi sono leggi in gran parte romane con qualche aggiunta da non è neanche chiaro se dalla tradizione gotica o forse da leggi militari romane che diciamo studenti di legge hanno pensato fossero leggi gotiche ma probabilmente erano leggi romane anche quelle quindi abbiamo la legge romana abbiamo la lingua romana perché il latino è la lingua fondamentale del regno visigoto abbiamo e non solo abbiamo anche la vera fusione finalmente tra goti e romani perché da quello che possiamo capire leggendo le varie foglie di tè disponibili agli storici la classe dirigente ibero-romana si fonde con la classe dirigente gotica cioè quando arrivano i goti in Iberia loro sono tutti la classe dirigente militarizzata ma poi come sempre succede nella storia i ricchi si imparentano con i ricchi e i poveri finiscono loro malgrado con i poveri quindi quello che succede è che i goti esercitali finiscono per diventare dei contadini dipendenti dai loro signori come la popolazione romana e i nobili romani i nobili gotici diventano sostanzialmente la stessa classe dirigente si fondono tra di loro quindi arriviamo ad una vera e propria fusione ora l'unica cosa di goto che rimane direi è il nome regno visigoto in Italia probabilmente sarebbe accaduto l'opposto qualcuno l'avrebbe chiamato impero se il regno strogoto fosse durato a lungo io non penso che i goti probabilmente avrebbero ceduto anche sul nome ma in Spagna quello che succede è che il regno continua a portare il nome degli originali conquistatori visigoti ma è rimasto veramente quasi nulla di visigoto voglio sottolineare questa cosa però comunque questo regno ha un ha una struttura politica molto centralizzata a Toledo una sua chiesa sostanzialmente indipendente da Roma però come sappiamo quello che succede è che a un certo punto arrivano gli arabi quindi la sfortuna dei goti che poi li porta a scomparire quasi completamente dalla storia a differenza dei franchi i franchi succede la stessa identica cosa tra parentesi ovviamente i franchi e i romani si fondono tra di loro rimane solo il nome dei franchi ma già il dettaglio diciamo l'indizio è che in Francia non si parla una lingua germanica si parla una lingua latina e moltissime delle tradizioni franche sono latine anche se un po' meno di quelle dei visigoti cioè la legge dei sali effettivamente ha degli elementi germanici però quindi quello che succede è che rimangono schiacciati tra franchi e arabi e quindi i franchi diventano il cuore della civiltà renana e qui torniamo a quello che ho detto all'inizio la nostra civiltà è una civiltà renana quella occidentale cioè a cavallo del reno l'Italia è la periferia della civiltà occidentale dal sin dal sostanzialmente dal rivo degli arabi poi ha avuto dei periodi di grande splendore culturale eccetera ma il cuore politico dell'Europa dal sin dal direi quasi dai merovingi ma sicuramente dai carolingi il cuore politico dell'Europa è sul reno Marco ti interrompo giusto per andare poi a qualche conclusione una domanda che forse è inevitabile quando si si affrontano i temi storici è se nella tua nella tua ricerca nel tuo approfondimento hai trovato degli spunti che parlano alla alla nostra era e ai nostri anni ecco il primo che mi viene da citare è il tema dell'immigrazione tu che che spunti hai tratto sì è sempre è sempre difficile io non sono tanto d'accordo che storia magistra vite insomma perché è sempre pericoloso andare a cercare nel passato una guida per il futuro però qualcosa possiamo cercare di di prendere di più universale e una delle questioni fondamentali è questo la questione dell'immigrazione dell'identità e io mi sento di dire che diceva diceva lincoln che house house divided cannot stand una casa divisa non può restare in piedi quindi sono da questo punto di vista convinto che si deve arrivare a un certo punto ad una sintesi la sintesi non è non è un punto di caduta diciamo identico al punto iniziale cioè per intenderci per spiegarlo in parole povere non è che vuol dire che chi arriva per esempio in Italia deve diventare italiano al 100% come erano gli italiani 30-40 anni fa il punto di caduta comune è un punto in cui ci si influenza vicenda però non si può rimanere separati in casa non sono d'accordo che a lungo andare sia qualcosa di positivo